Buon poveriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sì che bello Allora mi è arrivato un pacchettone Sì Lo apriamo subito E così vi dico Chi lo manda E perché lo manda Allora Apriamo insieme Ok Mi ha mandato Buon sconto per andare al Cartoon Mix Questa bravissima ragazza Ok Adesso veniamo a noi Un attimo Sì perché lei sarà presente al Cartoon Mix Qui a Milano A esporre Ammazza se l'ha impacchettato bene No ma cosa mi ha mandato Ma questa è matta Sei matta sei Non so che stai vedendo sto video Questo è fuori di testa sei Madonna Guarda che cosa mi ha mandato Adesso guardiamo tutto con calma Ma quanta cavolo di roba mi hai mandato No ma la vedete la figura che c'è sopra No vabbè ma adesso è fuori di testa Ancora roba c'è Aspetta Oh mio Dio sto impazzendo Aspetta aspetta che qui c'è No si è rotta la farfalla Questa è la tua delicatezza Tamara No si è rotta la farfalla No la rincollo Tranquilli ragazzi la rincollo La chiave a forma di farfalla La rincollo e non è successo Praticamente nulla Allora Vi dico solo che questo pacco Me lo manda Ah usa le videocassette Vedi Che buona Buon metodo per spedire le cose Cioè no Maria io non ho parole Comunque lei è L'Apetit Deco Maria Tortorici Un bacio grande E sicuramente verrò a trovarti Al Cartoon Mix Questo è chiaro Ma io ho fatto Abbiamo fatto uno scambio creativo E guardate quanta roba mi ha mandato Io adesso faccio la figura di M Perché io tutta sta roba Non gliel'ho mandata Cioè guardate Maria 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 nel vero senso della parola Però Maria Eh guarda qua Lo scettro di Sailor Moon Che io pensavo ero più piccolo Invece wow Alla faccia sua Bellissimo Stampo Subito Questi Con l'effetto acqua Favolosi Wow Guarda che meraviglia Ma io come faccio A non farci La sirena direttamente Su una e sull'altra È impossibile Non farci una sirena Qua sopra Cioè Maria Io veramente Non ho parole E questo orologio Oh mio Dio Con effetto Acqua No vabbè Dai Che ve lo dico a fa Io non ho parole Ma io adesso ho fatto Una figura di M Di quelli giganteschi Guardate Anche il fiocco Il fiocchettino Più piccolo Mi ha mandato Di Sailor Moon E questi componenti No vabbè Ma io non gli ho mandato Niente Guarda Tamara Sembra una caffona Lo so Che sono una caffona Maria devi scusarmi Ma tanto Mi rifarò Il carton mix Arriverò con un sacchettone Che manco Te le immagini Bellissimi E qua Cosa spacchettiamo Oh wow Fatto di gesso Cioè Colli anche il gesso Vabbè Chiaro Tutto quello che si può colare Lei lo cola Oh guarda che carini Questa è la tacuna La mia gatta No scherzo Che carini Le campanelle Belle Poi vediamo Ah ecco Vedi perché il gesso È simile che lascia Che lascia un po' di polverina bianca Me le ha Me le ha chiese Nel sacchettino Qua Che belli No vabbè Io non ho parole Non ho parole Io farò la figura di M Quelli esagerati Cioè Vabbè Io Sto male Cosa vuoi Cosa E guarda quanti Quanti cookies Io sto sempre lì a farmi Il cookies Sto sempre lì a farmi Il cookies Guarda lei Quante me le ha mandati Ma come cavolo fai a farne così tanti Aspetta che apro il sacchettino Uno verde Io le adoro Sti biscottini Forse lei lo sa Le ha detto Cioè mandiamogli un po' di cookies A sta A sta cristiana qua Che sta sempre impazzire a farseli Sì anche perché gli stampi È uno Lo stampino Che si sta anche consumando Bellini Di tutti i colori Anche bianco Me l'ha mandato Sì ma adesso c'è il pezzo forte Aspettate Perché ancora deve arrivare Un rosa Che dà sul pesca Un rosa Pesca Più chiaro E un altro color biscotto Wow Questa prima cassettina A me piace da morire Poi mi ha mandato Le stampe delle ali Quello che mi diceva Anche la Come si dice Che ho visto anche nel video Della Mannaggia Magico mondo di ploppi Che lei si stampa le ali Bello Grazie Maria Perché dicevi che Anche dei pipistrello Che carini Mamma Questa ragazza è Una mente Che esplode Veramente Guardate cosa mi ha mandato Si vede che lei Questo stampo Non lo usa Il gatto Nel cono gelato Devo assolutamente Provarlo Poi la Nostra nave madre Qua E lo shuttle Bellini Belli Quanta roba Però E poi Questo Che ci sono Un orsacchiotto Che carino Questo è un orsacchiotto Un orsacchiotto Un cuore Questo Non si capisce bene Che cos'è Questo è un cuore Credo che sia Un altro cuore Questo però è rovinato Un ciuccio Un altro orsacchiotto Piccolino E questo è un fiocco Credo che sia natalizio Della stamperia Proveremo anche questo Ah grazie per i biglietti Di omaggio per l'ingresso Omaggio Dio Buono sconto Di 2 euro Poi Si perchè lei Perciperà Come aveva detto prima Aspetta che scaviamo Scatola Mamma Quanta roba Mi hai mandato Maria Io Mi sento veramente In difetto Si si Io lo sapevo Che facevo la figura Di me Me lo sentivo Dentro Allora se te lo sentivi Perché ne hai fatto qualcosa Perché Perché C'ho la testa di Guarda che bello Mi ha mandato Questa chiave Che le avevo Chiesto Questa me l'ha mandata Lei Questo Questa stellina E queste Due decorazioni Che belle Ci devo fare Assolutamente Gli stampi Non vedo l'ora Di farmi Gli stampi E sono fatti Veramente Veramente Bene Belle Questa base Camion Non l'avevo Questa è leggermente Ovale Mentre questa È più tonda A me sembrano Uguale Però Cambia Qualcosina No Sono uguale Vabbè Due chiavi Wow Non pensavo Che erano così Grandi Belle E La stellina Ma qui Non è ancora Finito Guarda Quanta bella Roba Mi ha mandato No Vabbè Ma io Impazzisco Ah Un altro Scettro Mi ha Mandato Di Sailor Moon Due quadretti Questi gliele avevo chiesti Guardate che meraviglia Sono spettacolari Poi Total White Che io adoro E questa foglia Bella Ora vediamo Qua dentro Un'altra foglia Bella Questa non gliel'avevo chiesta Me l'ha mandata lei Questo cuore Me l'ha mandato lei Glitteroso Appena appena glitterato Oh mio dio Che meraviglia Questa non gliel'ho chiesto Guarda che bella E poi c'è anche Questa qua Color Tiffany Bellissime Bella E poi c'è quest'altro Pacchettino Ari Lackuma Turchese Bellino Lui Un'altra chiave Wow Un fiocco di Sailor Moon Guardate il viso di Luna Che bello E poi un altro quadrotto Che è uguale a questo Solo che in verde Wow Quanta bella roba Maria Io ti ringrazio infinitamente Adesso me ne metto via tutti Perché ci farò Al più presto Gli stampi E grazie 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 Veramente Grazie Fantastici Grazie Maria Veramente Troppo 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 Adesso me li sistemo tutti Dove l'ho messo il bigliettino Eccola qua Qua è il suo bigliettino da visita Beh lei è bravissima a fare ogni cosa Qualunque cosa Lei è capace di farla In primis E poi è bravissima Che ti devo dire? Non ti posso dire niente Va bene Io ti ringrazio ancora tantissimo E ci vediamo al carton mix Tenta perché Arrivo carica Ciao Ciao ragazzi Alla prossima Aspettate perché c'è anche questo pacchettino E mi sono dimenticata di aprirlo Aspettate Aspettate La ciambellina Che le avevo chiesto Meraviglia Poi Un'altra ciambellina Che ho quella Questa di prima Due me ne ha mandate di questa Una pacca E una lucida Vabbè Ma sei avanti Allora Questa vedete È un po' più lucida di questa Poi Ah Quest'altra cornice Vero Questa io ce l'ho però Adesso Ovviamente Lei non lo sapeva Totoro Che bello Sì Le avevo chiesto anche Totoro Bellissimo Poi Ah Eccoli qua Vedi La ciambellina Sempre di questo Di questo set qua Diciamo E poi Le due Le due sagome di luna Che le avevo chiesto Insieme a questa E qua adesso ci sbizzarriremo con i colori Sicuramente Va bene ragazzi Ora è proprio tutto Meraviglia Belle Ci piacciono Tutoro Sceglie proprio Bello Non pensavo che era così grande Poi le foto Si sa Si sa Le dimensioni Non si capiscono bene Nelle foto Però Meraviglia Mi piace veramente Tutto 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 Grazie ancora Maria Si è stata veramente Di una gentilezza Infinita E adoro Tutto Quello che mi hai mandato Tutto Adoro Si che bello Ok ragazzi Con questo è proprio tutto Grazie ancora Maria E A tutti voi Ciao Alla prossima Ciao